Buongiorno e buonasera dal vostro sui rito ragazze e ragazze ed eccoci qua in questo uno dell'episodio di Corpse Party Mi scuso per l'enorme ritardo ma ho avuto dei contrattempi anche perché mi sto preparando Fisicamente e psicologicamente per andare al Comic Con Vabbè poi avrete ulteriori dettagli in un video nei prossimi giorni Allora dopo aver ottenuto la lingua di Ryo, il fantasmino limonatore Che purtroppo limona senza lingua Gli la dobbiamo consegnare quindi andiamolo a pescare chissà dove Praticamente gli diamo la lingua ma non lo guardiamo negli occhi E' come il classico bacio tra innamorati Si chiude negli occhi e si immagina l'enfasi durante la limonata Un classico Ehm Ayumi è difficile mettergli la lingua davanti Ah ok Completo opposto di Satoshi Yoshiki ha le palle Sempre se Le ha entrambe E allora? Ah devo proprio Ah va? Ah va? Ah va? Ah va? Ah va? Vuoi mostrare la lingua? Eh sì, perché sono questo cacilimona senza lingua. Brava Yumi, brava, sei morto all'antica. Si inizia prima con la lettera d'amore e poi la limonata. Grazie a tutti. Sì, ma adesso come se l'attacca con il super attack? O se la cuce? Un altro terremoto che ricostruisce? E abbiamo ripreso il controllo dello scemo. Ehm, in mano a Kezami? Buona fortuna. Si ritorna? Oh cavoli. Ovviamente la diamo in seguire. Siamo intelligenti. Piccolina, dove sei finita? Non vedo l'ora di farmi ammazzare. Verde Speranza, ottieni il cellulare di Seiko. Questo è il telefono del telefono di Sinohara. Sinohara? Scusate, Sinohara. Questo è... Ragazzi, per quanto riguarda il contenuto del messaggio lo scoprirete a fine capitolo 5. Quindi ce ne vorrà un bel po'. Siamo ritornati da Naomi. Satoshi... Oh... Hitori nisi nai deo... Sumanai... Yuka o sagashi nitte tanda... Socca... Già i... Era un photore었습니다 di suoi sindicata... C지를 runelloare la tecnologia... La ஒra scu burada Roma sucutor cuore... Ehm... Qui mu cage commencerLY adora... Et le ciò neственino le due... Yukaなんか... I come aujourd' called... La scuola legislatura... Ehm... 剛 lac Weil quella delle miche... Molti e mi?". TaЕxu da... Sumanai... Ma ce l'hai? Perché sei parte da pomeriggio? L'altro, qui... Hai fatto un po' di roba di pomeriggio in un pomeriggio, quindi... ...l'altro, quando ci ha fatto un po' di più, hai fatto una scuola. Mi sono venuto... E... in realtà? Non ho capito... Due pollici in Super Satoshi Almeno per una volta Naomi si rende utile Una chiave Una chiave Una chiave Una chiave Adesso finalmente possiamo disturbare il custode mentre si vede uomini e donne Lei nell'ha staccato la corrente? Da quando tempo non pagavano le bollette? E' proprio sul più bello Cosa? 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 Guardia notturna Cosa? 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 E' appaiono dei fogli Come per magia Cosa? 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 Stanno parlando del tizio con il martellone Stanno parlando del tizio con ii 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 Ma il sogno è morto, ma è un sogno che si è morto? Ok? Allora, non so, non so, non so, non so, non so, non so. Asciguarti le lacrime, asciguarti! E soffiarti il naso almeno. È brutto per una ragazza avere il naso sporco. Ah, omae, questo è il mio! Ah, ha voluto lasciare a Yoshiki un pensierino, un ricordino. Yoshiki, non sei contento di avere il muco della tua amata? Che bello, eh? Non è una cosa per tutti, è un privilegio raro. Ah, non so, non so, non so. E poi si fusero in un unico corpo. Bello, vorrà Yubi che si pulisce il nasino. Senza preoccuparsi delle conseguenze. E' un bel pesco di bambolino. Che bello, c'è un pesco di bambolino. Non mi ricordi, non mi ricordi. Ma non è un pesco di catturino. Beh, meglio così per me. Ancora la bambolina No Ma no Dovrebbe stare da queste parti Premiamo X a caso Ok Ah no, forse deve essere anche la posizione esatta Però io provo così Che abbiamo preso? Chiave di ricarica Per orologi O scatole musicali E dove si va A utilizzare adesso? Ehi, chi cacchio ne so Io Che bello, che bello Ah, di qua Certo, usiamola Sono andato a caso, ve lo giuro Bisogna cercare come cavolo fare C'è un attacchio in più rispetto a prima Forza Yoshiki, ce la puoi fare Oh, 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 oh Un passaggio segreto Direi che possiamo concludere a questo punto questo episodio Lo so ragazzi, sono una persona cattiva Ma non vi preoccupate perché Se tutto va bene Vedrete Il nuovo video Domani Voglio Lasciarvi sulle spine Non voglio subito varcare quella Quella soglia Capita a me, capita a me Detto questo, se volete commentate E noi ci risentiamo A miei futuri video Bye bye Bye